Benvenuti ad un nuovo appuntamento di Toscana Cine News per invitarvi ancora una volta ad andare a vedere i festival internazionali che si stanno tenendo in questo momento a Firenze, che sono il Festival dei Popoli e il prossimo arrivo di François de Honne, ma anche per farvi ho reso conto di quello che sono state le celebrazioni del film Camera con Vista. E partiamo proprio da quest'ultimo punto. Nel 1986 usciva nel Sala Italiana il film Camera con Vista di James Ivory. Ebbene è stato un grandissimo film in quanto, a parte pluri, premiato anche agli Oscar, ma è stato un successo internazionale. E ha celebrato anche in qualche modo le più belle location di Firenze, fra il centro storico, le colline di Fiesole, le strade, i monumenti. Insomma un grande omaggio veramente a Firenze. Si parla dei primi del Novecento, quando Firenze era ancora meta del Grand Tour e molti viaggiatori inglesi si recavano in Italia. Siamo alla pensione Bertolini, dove Lucy, la giovane Lucy, inglese, è a Firenze con l'anziana zia Charlotte e si incontrano queste due donne con gli Emerson padre e figlio. Ebbene i due giovani, Lucy e George Emerson, interpretati rispettivamente da Elena Bonham Carter e Julian Sanz, si innamoreranno nonostante le circostanze in qualche modo sfavorevoli. Quindi una grande storia d'amore, come dicevo un grande omaggio a Firenze. Questo trentennale di camera con vista è stato festeggiato qui a Firenze con vari eventi. Ebbene il 4 ottobre James Ivory ha tenuto una conferenza stampa al cinema e alla compagnia e ha parlato del suo rapporto con la città in relazione al film. Sentiamo che cosa ha detto. Sapevo, ero perfettamente cosciente di quello che mi aspettava a Firenze, sapevo che c'era tantissimo da vedere perché avevo studiato comunque di nascimento all'università. Ma non avevo mai visto tutte le meraviglie che c'erano nei musei, mai ero stato agli uffizi, mai ero stato in un museo fiorentino. Anche se mi aspettavo, conoscevo tutto quello che la città riservava e sapevo che lo avrei anche apprezzato e adorato tutto quello che la città riservava. Però era tantissimo, era quasi troppo, quindi giorno dopo giorno, pian piano, assorbivo e digerivo questa grande quantità. Ed è ancora così, tuttora, anche se poi nel corso del tempo sono tornato un sacco di volte a Firenze. In realtà mi rendo conto che ancora non ho visto niente, ancora c'è tantissimo da vedere. Quindi questo sia stato il mio impatto con la città. Come dicevo, il film è stato un grande omaggio a Firenze. Firenze ha ricambiato con un grande omaggio, con grande calore, ma anche con il più importante riconoscimento. Infatti proprio a James Ivory è stato riconosciuto e consegnato il fiorino d'oro da parte della Comune di Firenze, consegnato proprio dalle mani del sindaco Dario Nardella. Questo è avvenuto il fiorino d'oro, il fiorino d'oro, la riconoscenza della città, per aver convinto il suo senso di florezza nel mondo con il suo cuore e una visione di un'esercizio in alto. Grazie, maestro. Questo è avvenuto il 5 ottobre pomeriggio. Ebbene, proprio in quel giorno c'è stata un'incredibile concomitanza. La notizia è che lo scrittore giapponese, ma cittadino britannico, Kazuo Ishiguro, è quest'anno il premio Nobel per la letteratura. Ed è proprio lo scrittore dalla cui penna è nato il romanzo Quel che resta del giorno, che James Ivory ha trasposto con grande successo sul grande schermo. Quindi la consegna del fiorino d'oro è stata un'occasione anche per parlare del rapporto di Ivory con lo scrittore Ishiguro. Vi abbiamo raccontato del 4 ottobre e 5 ottobre pomeriggio. Andando avanti con il resoconto, il 5 ottobre sera, grande serata di gala al Cinema Odeon di Firenze, con il regista e il cast sul palco del cinema, intervistati dalla direttrice della rivista Chuck, Piera Di Tassis. E invece venerdì 6 ottobre, sempre al cinema La Compagnia, ospite d'onore Elena Bonancarte. Proprio l'attrice che James Ivory ha lanciato nell'empireo del cinema internazionale e a partire da quel film è diventata effettivamente una star, un'attrice conosciuta nel mondo. Rissentiamo che cosa ci ha detto Elena Bonancarte dal nostro microfono. Allora, i primi ruoli che ha avuto, camera con vista, un ruolo in costume. Poi a un certo punto un cambio completo e dei ruoli fantastico. Quando è avvenuto questo cambiamento? Come l'ha vissuto? Se l'ha sentito un personaggio più vicino rispetto ai film in costume storici? Beh, prima di tutto, ho fatto il Fight Club, penso che questo era il grande cambiamento. Devo dire che quando si è una nomination per l'Oscar, almeno per 6 settimane, tu ti telefonano, tutti ti vogliono per tutti i ruoli possibili. Comunque, il primo film importante che ho fatto dopo questo in costume... Ah, ok, è stato anche una cosa in televisione. Comunque, sì, è stato in particolare Brad Pitt a volerla. Poi dopo, chiaro, c'è stato Tim Burton e quindi è diventata dallo scimpanzee, poi si è vero, ho fatto altri film, Big Fish, Alice, Mona, quindi sempre sulla... Anche perché, anche perché, avendo dei figli, era anche importante avere ruoli un po' più piccoli, che lasciassero appunto anche uno spazio alla sua vita. Quindi poi, sì, continuata questa carriera, trovando la sua via in vari ambiti, eccetera, quello che è certo è che quando ho iniziato, quando avevo 18 anni, non avrei mai immaginato che la mia carriera e il mio lavoro durassero così lungo, perché sto ancora lavorando, ed è qualcosa di assolutamente inimmaginabile. E dopo questo resoconto di quelli che sono stati i festeggiamenti per camera con vista, vi ricordo quelli che sono i festival internazionali che si tengono in questi giorni, fino al 17 di ottobre al Cinema La Compagnia, 58esima edizione del Festival dei Popoli, in programma a tanti documentari, un omaggio, una retrospettiva dedicata al regista giapponese Sodà, ma anche un focus di quelli che sono i documentari che raccontano il potere, vale a dire di come i leader internazionali si sono nel tempo fatti raccontare dal cinema. E dopo il Festival dei Popoli, invece, dal 19 al 22 d'ottobre, noda edizione di Fransodéon, un festival incredibilmente bello, diretto da Francesco Ranieri-Martinotti, bello perché? Perché ci porta qui a Firenze quello che è uno spaccato del cinema francese contemporaneo, presentato alla presenza di ospiti importanti, attori, registi, produttori. Ebbene, appunto, dicevo, dal 19 al 22 di ottobre. La serata d'inaugurazione, giovedì 19 alle 18.30, sarà la presenza di Clotilde M, un'attrice e modella francese che ha lavorato con Stéphane Brisé e Alix de la Porte, che ha vinto già degli importanti riconoscimenti e che sarà a Firenze per presentare il film Les Redutables. Ma ho attesi a Firenze anche Louis Garel e il regista Asana Vistius. Quindi, insomma, dei nomi veramente importanti internazionali. Nelle prossime puntate vi proporremo interviste proprio agli ospiti citati. E con questa anticipazione di Fransodéon, che vi invito veramente a venire a vedere, è il Cinema Compagnia, di cui tutto il programma è sul sito www.cinemalacompagnia.it. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.